Ciao ragazze, come state? Però bene. Allora, nuovo video, in grigio. Dunque, oggi, siccome non sono stata molto bene, però ho avuto voglio lo stesso di fare un nuovo video con voi. Spero che vi possa piacere. Dico solamente, mettete un like, guardate tutto il video, e commentate, e iscrivetevi al canale, e nulla, attivate la campanella, e buona visione. Allora, dunque, ieri sera ho dormito così e così, perché avrei. e 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 al microfono sperando che si senta bene allora riposatevi tutti comodi nel vostro divano o nel vostro letto perchè io vi vorrò tormentare piano 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 cercate solamente di rilassarvi rilassarvi e distravi nel vostro letto o dovunque siate anche nel divano va bellissimo ok e nulla questo è un video appunto ASMR e sperando che vi possa piacere questo video rilassamento ovvero questo ASMR in sottoforma di che grigio come l'occhiavia di sorda e niente allora mi trovate in pigiama perchè siccome oggi non sto bene perchè nel senso che no insomma insomma tre donne c'è anche un maschietto me lo dico lo stesso insomma sono nel periodo del palloncino rosso quindi ecco perchè sono in pigiama in pigiama potrei vestire me lo faccio al prossimo video ASMR appunto questo primo video che faccio in pigiama ASMR ma al prossimo se riesco mi vesto non tutta ma una parte di sopra mi vesto il busto mi vesto la maglia una maglia qualcosa mi metterò addosso perchè sono tutta gonfia ragazzi non avete idea io sono molto gonfia quando vengono le mie istruzioni sono per la gonfia quindi no comment già e già è così e quindi niente aspettate un attimo che qui abbasso la luce vabbè tutta la mia parte perchè se davanti non mi vedete bene e vabbè che questa luce non è il massimo quindi vabbè e nulla comunque spero che voi stiate bene e e si io sto bene nonostante questa problematica di noi donne che poi non è un problema e e saluta questa è vera e vera salute anche se per molte donne è una tragedia della tragedia della tragedia ancora però ci devo più dobbiamo cercare di profite di noi di niente quando avevo questo problema di che poi non lo chiama il problema è modo di stare bene perchè se non ci fosse quello come faremo appunto ebbè ecco si ragazzi intanto sto vedendo che mi stanno arrivando domani che mi sento insomma insomma che ti ho mai sentito da è un problema Tengo un microfono un po' più lontano, perché mi stanno cosciendo che forse do fastidio, però niente da fare. Allora, comunque, come vedete sono in camera mia e nulla, volevo solamente specificare che sono in camera mia, che sto registrando questo video, come quasi tutti i video, ASMR le faccio in camera, non tutti, alcuni sì, alcuni no. Dipende, 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 dipende. Allora, tramentate, vissima metà. Allora, tramentate, vissima metà. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Ciao.